A Lanciano si tira un sospiro di sollievo. Non definitivo ci mancherebbe perché c'è da battere ancora la Salernitana, ma intanto la doppia sfida contro il Granata ci sarà. Infatti ieri la seconda sezione del Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Generale e dalla Procura Federale contro Di Menno di Bucchianico e la Virtus Lanciano. Dunque rimane inalterato quanto deciso dalla Corte Federale d'Appello lo scorso 13 maggio. Niente penalizzazione, la Virtus rimane a 44 punti in classifica e ora i rossoneri potranno perciò giocarsi 180 minuti più importanti della stagione, ricacciando il Lega Pro lo spettro del Livorno che sperava in una ulteriore condanna dei frentani per cercare di salvarsi dal baratro della Serie C. Buona notizia per il Lanciano dunque, che domani Albiondi proverà a giocarsi le proprie carte contro la Salernitana. L'unica notizia non proprio positiva invece per Maragliulo è il fatto che dovrà fare a meno nel reparto avanzato di Nicola Ferrari, perché tra i vari ricorsi respinti, ieri, c'è anche quello della Corte d'Appello contro la squalifica di due giornate dell'attaccante che salterà perciò il play-out contro i campani. Tutto questo nonostante il sodalizio ferrentano avesse posto l'accento sulla inapplicabilità della prova televisiva, ma evidentemente, come spesso accade, in un'ottica di compensazione, per una decisione favorevole ne arriva puntualmente una contraria. Sarà emergenza davanti per il tecnico rossonero, costretto a fare a meno anche di Di Francesco e Giannonato. Ma a questo punto Maragliulo, più che agli uomini, dovrà puntare sullo spirito e sulla voglia di mantenere una categoria che in inverno sembrava già persa, poi miracolosamente conquistata, e che stava di nuovo per sfuggire di mano. L'appendice play-out sarà l'ennesimo esame da non fallire, perché stavolta possibilità di rimediare proprio non ce ne sono.